Aooo 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 ma che cazzo che urli Senti un po' ma se posso sapere come fai a star così tranquillo Eh perchè ti resta preoccupato fammi un po' capi' E' il 4 dicembre e niente dice niente Ma che è il complano di qualcuno per caso? Ma no ci sta il referendum Ma rincoglionito Ah beh bella roba Cioè aspetta e mi sta a far capire che non vai a vota' Senti io non ci vado a votare il referendum Oh scemo che cazzo le svegli la tv No modi devi stare un attimo zitto perchè mi sta a far rosicare Adesso vedrai la motivazione perchè non vai Dai vai No perchè l'ultima volta io ho rinunciato alla mia gita in montagna Per andare a votare il referendum sulle tripellazioni E il 70% degli italiani ha preferito stare con le chiappe sulla poltrona Invece di andare a votare Maledetti Quindi vuoi far parte vedere quei elementi che non vanno a votare Fammi capi' Si Stavolta si Vabbè a parte che non serve neanche il raggiungimento di un quorum Visto che è un referendum costituzionale Ma poi ti rendi conto che l'unico diritto che abbiamo ancora nei italiani E' quello delle votazioni Ma tanto è inutile votare Già è tutto scritto Ci fanno credere che possiamo cambiare qualcosa Ma non è vero Vabbè quindi stare seduti a giocare alla play è la cosa giusta da fare Anche perchè ricordo che tu durante le manifestazioni te ne sei stato bella a casa Vabbè ma c'era uomini e donne Scusa Vabbè quindi sei una di quelle persone che sta su facebook a scrivere Che io non vado a votare per protesta Mentre alla fine è perchè non ti andavate muovere Ho capito ho capito Probabilmente però così tanto lo fanno tutti E questo è il problema Tanto lo fanno tutti Cioè degli italiani sono morti nella storia Per il diritto alle votazioni E voi lo buttate così in eccesso Io ho capito Non è colpa dei politici La colpa siamo noi italiani Vabbè ma tanto che vota fa? Ho letto il referendum Non ci ho capito niente C'è sta al minimo 40 modifiche agli articoli della costituzione Ma non ci sto a capire niente non voto no? Se non ci hai capito niente allora vota no Ma vai a votare lo stesso Eh quindi te che voti Ma non devi votare in base a quello che voto io In base a quello che vota la massa Hai una cazzo di testa Usala per votare Cioè c'è presente Dante Lo sai i gnavi Quelli che non avevano una propria idea dove li ha messi? Boh Nell'anti inferno inseguito da Vespe e Mosconi Perchè per Dante chi non aveva una propria idea Ma che cazzo viveva a fare? Vabbè te l'hai convinto venga a votare Quando era quindi non me lo ricordo Te l'ho già detto il 4 dicembre Ma che c'è la suoneria dell'inno di Mameli Ah si perchè non ti piace? Oh amo Ah te sei decisa finalmente a fare quella cosa a tre eh Ah con la tua amica russa che sta arrivando in Italia Perfetto perfetto Avete già ordinato un motel Quando? Il 4 dicembre Ah perchè può solamente quel giorno Ah a bè allora certo certo Ci sto ci sto ci sto Da benissimo Si si tutto il giorno tutto il giorno Il 4 dicembre Perfetto perfetto Va bene, ciao, 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 ciao Vabbè, ti riacciano la televisione, dai Vabbè, ma sinceramente, The Referendum, ma nessuno frega un cazzo Ragazzi, se il video vi è piaciuto, naturalmente, mettete mi piace, condividete, commentate, iscrivetevi E noi ci vediamo al prossimo video, ciao